Ben ritrovati al Notice di Antenna 3. Vediamo subito insieme gli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che sabato 12 novembre a partire dalle 15.30 presso la sala borsa della Camera di Commercio di Treviso Belluno si terrà la cerimonia delle premiazioni della quarantesima edizione del premio letterario Gambrinus Mazzotti. Il premio onora la figura e l'opera dello scrittore trevigiano dando risalto alle sue opere più meritevoli. Quest'anno le sezioni in gara sono alpinismo, ecologia e paesaggio, artigianato e tradizione. Verrà anche consegnato un premio onoris causa all'astronauta Roberto Vittori e il premio La Voce dei Lettori. La cerimonia potrà essere anche seguita in diretta streaming sul sito www.premiomazzotti.it. Siete in cerca di occupazione? Volete cambiarla o desiderate crescere professionalmente? Dal 10 al 13 novembre non perdete la seconda edizione del Faro Job Meeting, l'appuntamento per chi cerca lavoro. Troverete tutto quello che serve per costruire la vostra futura professione. Nei quattro giorni dell'evento, dalle 10.30 alle 18.30, i vari stand presenti al centro commerciale Porte di Mestre ospiteranno aziende e professionisti. Si potrà per esempio fare una revisione del proprio curriculum o simulare una job interview in lingua inglese e molto molto altro ancora. Potete scoprire il programma completo dell'evento sul sito portedimestre.it. ma anche sulle pagine Facebook e Instagram Porte di Mestre. Nel 1929 venne inaugurato il MoMA di New York. La caparbietà di tre donne dell'alta borghesia americana rese possibile un'opera cruciale per la memoria di un secolo di ingegno e creatività fino ad arrivare agli straordinari numeri di oggi. 150.000 opere, 22.000 film, 4 milioni di fermi immagine. Ad essi va aggiunto l'immenso patrimonio suddiviso tra la biblioteca e gli archivi con più di 300.000 libri e periodici. Chi viaggia ha scelto come mestiere quello del vento. Fabrizio Caramagna. La curiosità del territorio di oggi ci porta proprio a scoprire qualche cosa in più su Giuseppe Mazzotti. Nacque a Treviso il 18 marzo 1907. Un uomo poliedrico, scrittore, alpinista, gastronomo, salvatore delle ville venete. Tanti i suoi interessi. Tra i più apprezzati scrittori di montagna della sua generazione. Libri che gli valsero anche numerosi premi. Nelle sue pubblicazioni, per esempio sulle ville venete, pose l'accento sull'urgenza di un intervento di tutela del patrimonio locale. Influenzando la nascita di un movimento d'opinione che portò nel 1958 alla fondazione dell'ente per le ville venete. Mazzotti fu anche un brillante alpinista e divenne membro del club alpino italiano. Scrisse un gran numero di articoli e saggi sui temi a lui più cari, tra cui arte, enogastronomia, artigianato, turismo e tradizioni popolari. Insomma un intellettuale a tutto tondo. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.